Il teatro ha una capienza di 500 posti. Siamo contenti che in realtà l'interesse dimostrato dalle persone in questi giorni e lo testimonia anche quello che sta avvenendo sia superiore e avremo la possibilità anche di recuperare per chi non fosse presente in sala un momento simile, un momento che abbiamo voluto fortemente. Il teatro è un luogo magico dove per qualche decina di minuti al massimo un paio d'ore questo involucro ci separa dal mondo esterno. E dove siamo invitati a fare un viaggio, un viaggio nel tempo, un viaggio nello spazio, in luoghi diversi da questo, accompagnati dalla capacità, dalla bravura dell'attore che calca questo palcoscenico. Ecco, questa mattina non avremo attori, avremo uno storico con notevole capacità narrativa, con una quindi predisposizione a farci fare questo percorso, questo viaggio. Non ascolteremo Shakespeare, non ascolteremo Goldoni, ascolteremo uno storico che ci parla di quello che è avvenuto intorno a cento anni fa e viene sintetizzato con una parola caporetto. Questo evento l'abbiamo voluto fortemente, come anche ne organizzeremo altri, per sfruttare al meglio questa occasione. È l'occasione di un centenario, non una celebrazione di una grande guerra, ma una occasione per pensare a quello che è accaduto. Perché possiamo capire chi siamo, da chi arriviamo, chi erano i nostri padri e le nostre madri, in che terra abitavano. Apro una piccola parentesi e mi rivolgo soprattutto ai più giovani che sono qui, so esserci ed essere tanti. La parola patria significa proprio questo, la terra dei nostri padri. E per capire San Donà l'appuntamento di questa mattina è molto importante. Vorremmo dare risposta ad alcune domande, ad esempio, perché a San Donà non ci sono monumenti storici che abbiano più di cento anni? Perché San Donà non è come, che ne so, Portogruaro o Treviso o Conegliano e invece è città contemporanea? Ecco, la giornata di oggi vuole anche dare una risposta a chi ancora già non l'avesse. Allora, un percorso nel tempo e nello spazio, lasciandoci prendere per mano da un professore bravissimo, il professor Barbero, che ringrazio, sta qui aspettando di entrare in scena appena io esco, che molti di noi conoscono e apprezzano per le sue capacità, non solo di conoscere la materia, ma di far appassionare di questa materia chi lo ascolta. Allora io ho fatto un piccolo esercizio e chiudo. E l'esercizio è questo. Il 22 ottobre del 1917 era un lunedì. San Donà contava circa 13.000 abitanti, quindi un terzo rispetto a quelli che ci sono adesso. Eravamo già nel terzo anno di guerra e quindi la fatica di questa situazione si sentiva nella popolazione. Molte tra le forze migliori erano impegnate sul fronte, che ancora era ad almeno 100 chilometri di distanza da qui. E sono convinto, sono sicuro, che quel 22 di ottobre del 1917 nessuno neanche lontanamente dei nostri nonni immaginava quello che poi sarebbe accaduto nei pochi giorni successivi. Quindi la gente continuava a vivere, continuava a nascere, continuava a morire. E questa era la quotidianità. Immagino che proprio a quest'ora ci fosse il mercato, in quella che non si chiamava Piazza Rizzo perché Rizzo non era ancora arrivato, ed era però il Foro Boario, sicuramente più povero rispetto ad adesso, però con le stesse esigenze che avevano le persone di allora. Mangiare, vestirsi, lavorare, una casa. Ecco, questi erano i nonni nostri 100 anni fa. Quello che è avvenuto in parte lo scopriremo oggi, in parte lo vedremo in puntate successive. Per il momento, per introdurre anche l'arrivo del professor Barbero, io vi invito a un momento di silenzio, dove non ci sarà una tromba che suona in diretta, ma ci sarà invece la ripresa, un piccolo video, che è stato girato il 13 di settembre, dieci giorni fa circa, a Caporetto, dove 240 ragazzi delle nostre scuole sono andate in visita, quasi una sorta di passaggio di testimone tra i bocce del 99, che erano entrati in campo, insomma, in quei tempi, per rafforzare un po' le nostre forze che si stavano esaurendo, e i ragazzi di oggi. Vi invito a questo momento di silenzio, anche perché ciò di cui parleremo oggi è una storia che è stata vissuta in carne ed ossa, fatta di molti volti che adesso non ricordiamo, se non magari nei nomi che vediamo nelle lapidi del Monumento ai Caduti o in qualche libro, o nei racconti che ne ha fatto, che ne so, Monsignor Saretta, o tanti altri storici che hanno raccontato questi anni. Vi invito a farlo, e proprio perché segniamo la distinzione tra quello che è il teatro frutto della immaginazione e quella che è la storia vera, vi chiedo anche di farlo in piedi. Grazie. Onore ai Caduti e la storia vera, A presto 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 A presto